È un'autentica boccata di ossigeno la proroga dell'attività lavorativa per i 45 lavoratori ASU in servizio presso il Comune di Ribera. Nessun licenziamento, viceversa la possibilità di proseguire l'attività presso il Comune grazie ad una legge approvata in extremis negli ultimi giorni del 2019 dalla Regione Siciliana. Alla luce di questa importante novità, il Comune di Ribera il 31 dicembre scorso ha poi deliberato, applicando la nuova normativa, la proroga dell'attività lavorativa a tempo determinato fino al 31 dicembre del 2021. Dunque potranno continuare a lavorare per altri due anni e al tempo stesso, in questi due anni, si spera che la Regione possa finalmente trovare una soluzione che consenta di procedere alla loro stabilizzazione. Il 2020 non poteva iniziare meglio per questi lavoratori e per le loro famiglie, che hanno vissuto le ultime settimane e gli ultimi giorni dell'anno con grande apprezzione, temendo davvero di essere licenziati e di perdere il lavoro dopo decenni di attività svolta nei vari settori all'interno del Palazzo Municipale. Già in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2019 da parte del Consiglio Comunale di Ribera, avvenuta a metà dicembre e che ha consentito di stabilizzare i 91 ex contrattisti, erano state inserite in un apposito capitolo. Le somme necessarie per avviare le procedure per la stabilizzazione di quest'altra categoria di lavoratori precari, in pratica le somme che saranno a carico del Comune, ma in attesa chiaramente di una normativa regionale di riferimento e soprattutto della necessaria storicizzazione del contributo per questi lavoratori da parte della Regione. Per i 45 ASU, inoltre, l'assunzione a tempo pieno dovrà avvenire con procedure concorsuali, a differenza dei 91 lavoratori recentemente stabilizzati che hanno visto il loro contratto trasformarsi a tempo in determinato, come da normativa, senza esami o concorsi. Il Comune di Ribera naturalmente adesso spera che la Regione siciliana adotti per gli ASU gli stessi criteri adottati per i precari e che il Governo regionale aiuti gli enti locali con la normativa e soprattutto con la ricerca delle somme necessarie per l'assunzione definitiva.